Ci auguriamo che con questa energia positiva che sempre si scatena con Connext ci siano nuove possibilità, nuove opportunità e la curiosità degli imprenditori possa venire stimolata dai tanti opportunità di innovazione, di miglioramento, di internazionalizzazione e anche di collaborazione fra imprese che si realizzano quando gli imprenditori stanno insieme. Noi sappiamo che ci sono tante risorse, tante belle aziende, tante eccellenze, c'è un grande lavoro da fare per far crescere le nostre imprese e lo spirito di Connext è proprio quello, cioè dare la possibilità entro le filiere ma non solo di uno sviluppo sia verticale che orizzontale per il nostro sistema industriale. Un evento importantissimo, intanto nato a Milano come ben sappiamo grazie a Confindustria Nazionale, oggi è la tappa palermitana e la Sicilia, oltre 450 imprese, più di 1000 visitatori, soprattutto una grande rete che ci vedrà presenti non soltanto qua ma dopo anche con la piattaforma di Confindustria. La vera essenza di Confindustria è questa, cioè aziende importanti, aziende serie che possono esporre i propri prodotti, che possono internazionalizzare, che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di Enterprise Europe Network che ci trova in prima linea non soltanto in questo ma anche in un modello nuovo di sviluppo, vale a dire ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di sbarcare i confini della digitalizzazione che è importantissima e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è anche questo, è anche impresa.